settimana scorsa abbiamo parlato dei motivi per i quali l'economia è tendenzialmente orientata a crescere sempre questo però non significa che lo faccia continuamente e in maniera lineare ma il tutto è correlato da una serie di alti e bassi che influenzano anche il nostro mercato azionario quello in cui investiamo i termini ciclici e non ciclici si riferiscono a quanto strettamente correlato il prezzo dell'azione di una società alle fluttuazioni dell'economia reale i titoli ciclici e le loro società hanno un rapporto diretto con l'economia reale mentre i titoli non ciclici solitamente sovraperformano ripetutamente il mercato quando la crescita economica rallenta ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aif ed autore del libro da meno 35 mila zero in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso lo volessi acquistare dove ti racconto la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole trovi il link sia per la versione cartacea che per quella kindle qui sotto nella descrizione ogni investitore chiunque esso sia non ha la facoltà di andare a manipolare o controllare i cicli di economia che sono prettamente questioni macroeconomiche o legato a cosiddetti cigni neri ma sicuramente ognuno di noi non può mettere in atto delle strategie o pratiche di investimento per trarre vantaggio dalla ciclicità degli eventi l'adeguamento alle transizioni economiche richiede una comprensione del mondo in cui le industrie si relazionano con l'economia esistono differenze fondamentali fra le aziende interessate da ampi cambiamenti economici e quelle che ne sono virtualmente o quasi immuni aziende cicliche le società o aziende definite cosiddette cicliche seguono le tendenze dell'economia generale il che rende i prezzi delle loro azioni molto volatili quando l'economia cresce i prezzi delle azioni cicliche salgono e solitamente lo fanno in maniera importante quando l'economia scenderà i loro prezzi i prezzi delle loro azioni scenderanno e anche in questo caso potrebbero essere grosse mazzate in pratica sono a seguire tutti i cicli dell'economia dall'espansione al picco alla recessione fino poi alla tanta agonata ripresa le azioni cicliche rappresentano società che producono o vendono articoli e servizi discrezionali che sono richiesti quando l'economia sta andando bene includono ad esempio ma non in maniera esaustiva i ristoranti le catene alberghiere le compagnie aeree i mobili i venditori di abbigliamento di fascia alta o le case automobilistiche questi sono anche i beni i servizi che le persone sono a tagliare per prime quando i tempi sono difficili perché in tempo di crisi le persone tendono a tenere alle spese o anche perché magari in determinati periodi purtroppo è il mercato del lavoro ad esserne impattato riducendo il numero delle persone che sono occupate e per cui che possono permettersi di spendere soldi quando le persone ritardano smettono di acquistare qualcosa di superfluo i ricavi di queste aziende che producono appunto questi prodotti o servizi e vendono appunto questi prodotti e servizi vanno a diminuire questa sua volta mette sotto pressione i loro prezzi i prezzi delle loro azioni intendo che iniziano a scendere nel caso in cui ci si trovi di fronte a lunghe recessioni o particolari lunghi momenti critici alcune di queste aziende purtroppo potrebbero andare a scomparire completamente e quindi dichiarare bancarotta le aziende non cicliche invece i titoli non ciclici sovra performano ripetutamente il mercato quando la crescita economica rallenta o perlomeno solitamente è così possono anche essere conosciuti come beni di consumo poiché sono sempre richiesti come bisogni primari i titoli non ciclici sono generalmente redditisi indipendentemente dalle tendenze economiche perché producono o distribuiscono beni e servizi di cui abbiamo comunque necessariamente sempre bisogno inclusi quelli che sono primari come il cibo ma anche quelli che non sono primari ma con primari come l'energia l'acqua il gas le azioni di queste società che appunto producono questi beni e servizi sono anche chiamate defensive stock in inglese azioni difensive perché possono difendere gli investitori dagli effetti di una recessione economica sono ottimi posti in cui investire quando le prospettive economiche sono aspre e bruttissime ad esempio i prodotti per la casa non durevoli come il dentifricio sapone shampoo o detessivo per i piatti potrebbero non sembrare essenziali ma in realtà non possono essere sacrificati la maggior parte delle persone non sente di poter aspettare fino al prossimo anno per insaponarsi sotto la doccia e da questo diciamo tutti meno male e grazie poveri sì ma lord picchi si dice in crotonese altre defensive stock possono essere quelle aziende che forniscono dei servizi pubblici come ad esempio l'energia elettrica il gas da riscaldamento una società di servizi pubblici è un altro esempio di società non ciclica le persone hanno comunque bisogno di energia e calore per sé e per le loro famiglie per andarsi a scaldare fornendo un servizio utilizzato in modo coerente le società di servizi pubblici crescono in modo conservativo e non subiscono quelle fluttuazioni dermatiche che per esempio subiscono quelle cicliche questo è un fatto fondamentale e chiave per le azioni non cicliche forniscono sicurezza ma non saliranno mai alle stelle quando l'economia tenderà a crescere quale bisogna avere in portafoglio beh quello dipende dalla strategia di ognuno di noi c'è chi punta solo sul ciclico puntando espressamente sulla grossa crescita di capital gain per cui sulla rivalutazione del prezzo delle azioni o chi punta solo sulle defensive stocks non cicliche perché ha intenzione di fare crescere il capitale di meno ma più lentamente magari incassando qualche dividendo nel tempo ed evitando infarti continui sulle perdite delle aziende cicliche il mio personalissimo parere che un mix delle due potrebbe e dovrebbe essere un buon inizio per andare a puntare poi ad aumentare la percentuale di una delle due categorie rispetto alle altre in base alla tipologia di investitore che siamo o della particolare strategia che vorremmo seguire e applicare nel tempo avendo tendenze per così dire a sentire la paura di rischiare con minore intensità o avendo una età piuttosto giovane potremmo tentare di optare per una maggiore porzione di cicliche all'interno del nostro portafoglio mentre se si è vecchi decrepiti come me o se si ha una tendenza ad avere attacchi di panico quando una delle nostre posizioni fa un meno 0,5 per cento in un solo giorno allora potremmo andare a posizionarci su aziende non cicliche ovviamente come sempre non esiste una risposta univoca ma una risposta univoca per ognuno di noi se poi volete un video su portafogli base che possono essere creati usando il mix di ciclico e non ciclico che includono nazioni internazionali non solo quelle statunitensi fatemi sapere che potrei utilizzarlo come idea per proporre appunto delle aziende e dei portafogli che potrebbero essere creati con esse se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per cortesia di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice su per farmi crescere sulla piattaforma a te costa un attimino ma per me significa come vuoi ben capire il mondo se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo fammi sapere cosa ne pensi di queste mie considerazioni e magari lasciami un commento qui sotto ponendomi le tue alternative bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci in un prossimo video ciao a presto ciao a presto ciao a presto